Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema di liquore al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa più 4 giorni di riposo in frigo. Ingredienti sono caffè espresso ristretto amaro, zucchero semolato, panna fresca per dolci, latte e alcol per alimenti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, la panna, lo zucchero e il caffè. Ed azionare il bimbi per 15 minuti, 80 gradi, velocità 3. Lasciare raffreddare. Trascorso il tempo il composto si è raffreddato. Aggiungere l'alcol ed amalgamare per 20 secondi a velocità 4. Trasferire in bottiglie di vetro e riporre in frigo per 4 giorni prima di consumare. crema di liquore al caffè. Si conserva in frigo per un mese circa. Agitare prima di servire. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!